buona giornata fratelli e sorelle finalmente dopo tanto sto riprendendo le trasmissioni di questo podcast allora vi chiedo la cortesia di seguirmi perché ci saranno delle cose importanti ad esempio pubblicherò ora a breve l'incontro che ho fatto sul capitolo 5 della lettera di Giacomo pubblicherò anche un incontro che abbiamo fatto insieme con la professoressa Marta sulle piante della Bibbia in particolare il sicomoro e soprattutto il fico queste cose le metterò suddivise in più puntate per rendere più facile l'ascolto perché sicuramente magari si ascolta meglio un audio di 10 minuti che non magari un audio di 40-50 minuti poi un'altra cosa potrebbe essere utile potrei mettere le letture della domenica cioè l'audio delle letture della domenica così intanto già ascoltarle prima potrebbe aiutare poi ascoltarle di nuovo alla santa messa con poi la spiegazione dell'omelia allora vi aspetto su questo podcast viene trasmesso sulle principali piattaforme di podcast altrimenti chiedete direttamente a me come fare per ascoltarlo intanto allora vi auguro una buona serata una buona giornata e quindi ci ritroveremo per i prossimi argomenti che saranno oggetto di questo podcast grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti